e la faccio vedere da dietro perché è una scoperta è la nuova huracan spider e l'altra sportiva blu italiana che c'è qui al salone di francoforte e venite un po a vedere con me che razza di linee che ha è veramente spettacolare come la coupe e forse anche di più perché è più tagliente più mossa più originale se volete e poi poter ascoltare il v10 5.2 da 610 cavalli senza tetto deve essere un emozione ulteriore dateci un'occhiata un po migliore e intanto vi faccio vedere poi altri dettagli ed ecco la faccia cattiva della huracan spider le dona molto questo blu perché mette in evidenza proprio tutte le proporzioni i tagli e la fa sembrare proprio veloce come 610 cavalli vi dicevo per 324 l'ora di velocità massima 0 100 in 3,4 secondi e 0 200 in 10,2 e mentre vi faccio vedere anche quest'altro colore molto particolare anche questo arancione vi racconto ancora due dati di questa spider che ha una capota elettrica che si chiude in 17 secondi dei roll bar di sicurezza che fuoriescono automaticamente in caso di ribaltamento è un rapporto peso potenza di 2,53 kg per cavallo quindi è diventata più emozionante ma non ha perso il suo lato di super sportiva sottovo a la mano di crema per polo ovicazioni di moda ovicazioni di più preformare ovicazioni di bambini vizia vizia vizia